Per me questo abbello è tutto, è la mia vita e io per questa cifra non mi sposto. Se posso dire la mia? Non puoi dire la tua. Oh no! Credo che sarà molto dura per Chiara. Quindi questi due imbecilli si separano? Però se posso dire la mia? No, non puoi. Scusate. Guarda, mi sti la cadente. Dai, spriamo il desiderio, dai. Vorrei che fosse Natale. Sono sicuro che troveremo un accordo. Spazeranno via tutto, l'albergo, il bosco e l'intera valle e dobbiamo fermarli. Facciamo cremare questa valle! Ciao, Su! Natale quest'anno, lo facciamo a ferro agosto. Buon Natale! Se posso dire la mia? No, non puoi dire la tua. Ah, un giorno potrò dire io!